A sostegno della campagna referendaria di domenica 17 non solo i movimenti ambientalisti ma anche i partiti, tra questi SEL che invita gli elettori a fermare l'invasione delle piattaforme petrolifere entro le 12 miglia dalla costa e favorire l'utilizzo di fonti energetiche naturali a quelle fossili. Per difendere il territorio e per bloccare il saccheggio del mare, per iniziare a mettere in campo uno sviluppo possibile. Tra la politica e la difesa del territorio deve mettere al centro difendere questo nostro mare e difendere i beni comuni. Lo sfruttamento degli idrocarburi dai fondali marini, sostiene SEL, gioverebbe molto alle industrie petrolifere e decisamente poco ai cittadini italiani. Le coste molisane-abruzzesi avrebbero ripercussioni negative su pesca, turismo e agricoltura. A coloro i quali senza pudore stanno saccheggiando da tempo i territori, a coloro i quali mettono al centro il business, a coloro i quali vogliono fare affari con i beni comuni. L'appello è quello di prendere in mano il destino del territorio nostro, decidere da che parte stare e votare per il sì, per difendere i beni comuni.